Ciao a tutti amici di TechDifferent, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un interessante paio di auricolari, si chiamano MySound SpeakActive. Sono ovviamente prodotti da MySound, sono Bluetooth e sono l'ideale per quando si fa allenamento. Ma non perdiamo tempo e andiamo subito a scoprirli in questa nuova video recensione. Prima di iniziare ovviamente vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al nostro canale. Qui sotto c'è il tastino per farlo e a lasciare un mi piace alla fine di questo video. Partiamo subito e andiamo a vedere cosa è contenuto all'interno della confezione. Allora, prima ovviamente di farvi vedere gli auricolari che ho già tirato fuori, appunto vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Troviamo innanzitutto dei gommini per adattarli ai vari tipi di orecchio. Ne abbiamo di tre tipi e così come degli archetti di varie dimensioni che ovviamente ci aiuteranno ad adattarlo al meglio al nostro tipo di orecchio. Abbiamo anche qui una piccola spilletta che serve appunto per tenere saldi gli auricolari attaccati alla nostra maglietta. E poi qui ovviamente abbiamo il cavetto micro USB per ovviamente ricaricarli. Allora, parliamo subito e partiamo subito per quanto riguarda l'autonomia. Circa sei ore di chiara MySound, effettivamente è così perché le ho utilizzate per oltre cinque ore e non mi hanno dato assolutamente nessun problema a livello di autonomia. Andiamo a vedere innanzitutto come sono costruiti. Pesano soltanto 18 grammi, sono molto molto leggeri. Hanno questi gommini leggermente posizionati verso l'interno dell'orecchio. Sono di tipo iniera ovviamente come potete vedere. Ed hanno questo archetto morbido che si posiziona all'interno dell'orecchio. E consente di farli stare molto saldi anche quando corriamo. Sinceramente dubitavo un po' del fatto che potessero stare attaccati all'orecchio senza doverli tutte le volte riposizionare e rimettere all'interno dell'orecchio. Invece è proprio così perché sono molto molto stabili anche quando corriamo. E quindi ci sono tante sollecitazioni durante la corsa. Non mi hanno dato assolutamente mai nessun problema di fuoriuscita dall'orecchio appunto. Si collegano ovviamente tramite bluetooth di tipo 4.1. Hanno questo cavetto che li collega insieme piuttosto lungo. Consente appunto di fare il giro intorno al nostro collo. Da una parte abbiamo ovviamente questo piccolo telecomandino, chiamiamolo così, per gestire appunto gli auricolari stessi e la canzone che viene riprodotta su di essi. Abbiamo i due tastini più e meno che servono appunto per alzare il volume e per abbassarlo. Il tasto centrale che serve per l'accensione del dispositivo e per far partire e ovviamente interrompere la traccia musicale. Possiamo ovviamente anche qui tramite il microfono parlare all'interlocutore. Quindi possiamo rispondere alle chiamate mentre stiamo correndo. Qui abbiamo un piccolo ingresso dove potremo attaccarlo e ricaricare il dispositivo. Sono molto ben fatti, sono costruiti completamente in plastica e gomma ma vi devo dire di buona qualità. Hanno veramente una buona qualità audio perché grazie allo speaker interno da 10 mm producono una buona quantità di bassi e sono ben equalizzati. Quindi si sente molto molto bene la musica e il suono non distorge mai. Quindi sotto la qualità a livello di audio direi decisamente promosse. Hanno un raggio d'azione di circa 10 metri. Quindi dal nostro smartphone quando ci allontaniamo ovviamente MySound dice in condizioni ottimali quindi senza presenza di muri o altre barriere. Insomma hanno abbastanza un raggio ampio. Non ho avuto mai assolutamente problemi di connessione. Si connettono allo smartphone e al tablet senza problemi. E la cosa importante è che non perdono mai la connessione. Le Speak Active di MySound potete trovarle sul sito ufficiale per 39,99€. Potete acquistarle con spedizione gratuita. Direttamente qui sotto vi lascio il link per l'acquisto. Vi ricordo che ovviamente sul sito di TechDifferent potete trovare qui sotto vi lascio il link l'articolo, la recensione completa per ulteriori informazioni. Ve le consiglio davvero queste MySound perché vanno in una fascia rapporto qualità prezzo veramente interessante. E sono veramente molto comode quando andiamo a correre, quando facciamo allenamento. Quindi ve le consiglio senza dubbio. Io direi che per questa video recensione è tutto. Vi invito ancora una volta, se non l'avete fatto, ad iscrivervi al nostro canale e a lasciare un like a questo video. Da Cristian Martini per TechDifferent è tutto. Un saluto. Ciao!